In questo tutorial ti spiegheremo come inviare i token acquistati sull'exchange MEX al portafoglio ultimo in Smart Wallet. Per inviare i token dall'exchange dovrai copiare l'indirizzo del tuo portafoglio. Per farlo apri l'applicazione Smart Wallet e clicca sulla scheda Ultima. Vedrai l'indirizzo del tuo portafoglio che potrai copiare cliccando sull'icona di copia. Accedi all'exchange MEX. Seleziona nel menu Wallet Withdraw. Inserisci il nome del token Ultima nella barra di ricerca. Inserisci l'indirizzo del portafoglio copiato e l'importo di Ultima che vuoi inviare. Conferma l'invio e attendi che l'exchange elabori la transazione. Una volta elaborata la transazione riceverai i token nel tuo portafoglio. Nota bene! Per inviare transazioni con Ultima dal tuo portafoglio devi avere delle monete Smart sul tuo saldo. Puoi ottenere le monete Smart nei seguenti modi. Chiedere a qualcuno di inviartele, ottenerle tramite lo swapping, acquistarle su un exchange e trasferirle sul tuo portafoglio. Il processo di trasferimento di Smart da MEX sul tuo portafoglio è simile al processo descritto in questo tutorial. Grazie a tutti!